Amici e amici di Rossini TV, siamo di fronte all'ingresso della prestigiosa sede di Rimini di Riviera Banca. Fra pochi minuti passeremo quella soglia, entreremo alla conferenza stampa di presentazione per il ritorno dello Startup Weekend. Techstar Startup Weekend, oltre 100 studenti coinvolti delle due province di Pesaro e di Rimini. Vado a leggere l'Istituto Tecnico Statale Economico Valturio e il Liceo Caris di Rimini. Il Liceo Marconi è l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Bramante Genga di Pesaro. Questi studenti parteciperanno a due giorni e mezzo, a un weekend, nel quale dimostreranno e testeranno le loro idee imprenditoriali. Ci incontreremo il venerdì, spiegheremo le regole del gioco e inizierà una maratona che terminerà la domenica con la presentazione dei progetti elaborati in questi tre giorni dai ragazzi ad una giuria che arriverà, che non ha saputo niente dei lavori prima. Fondamentalmente chi ha voglia di raccontare un'idea o chi gli viene un'idea in quel momento può presentarla in auditorium, qui dove siamo adesso. Dopodiché i ragazzi che vengono attratti da un'idea o da un'altra decidono di aderire al team e poi abbiamo delle regole di ingaggio e un'esperienza tale per guidarli a costruire il team, a lavorare anche con persone che fino ad ora non avevano mai conosciuto. E poi questo gruppo di professionisti e imprenditori che si mettono in gioco anche in forma volontaria durante questi giorni li aiutano e li supportano a sviluppare tutto quello che serve per passare da un'idea a un'impresa, quindi dall'immagine coordinata alla relazione del business plan a come si presenta in pubblico perché è un altro tema complesso per tutti, quindi immaginiamoci poi dei ragazzi che magari davanti a una platea non hanno mai parlato. Quindi tutta una serie di esercizi che è proprio una maratona di 54 ore che alla fine fa crescere tutti perché alla fine il beneficio è comune e vinciamo tutti. Delle idee che escono poi che cosa succede, che cosa se ne fa? Ci sono anche possibilità concrete di farle diventare idee imprenditoriali realizzate, applicate? Sì, certo, è già capitato e penso che succederà ancora perché i ragazzi più intraprendenti che si scoprono con delle attitudini particolari in questo percorso poi decidono che quell'idea la vogliano realizzare, quindi inizia un vero e proprio percorso di imprenditorialità. Quindi è già capitato negli anni precedenti che abbiamo connesso delle imprese del territorio a delle idee in maniera particolare perché uno poteva essere l'utile all'altro e tuttora si stanno sviluppando dei progetti. È la dimostrazione evidente di un grosso coinvolgimento che Riviera Banca vuole avere in questa iniziativa e nei confronti dei giovani in particolare mettendo a disposizione i propri uffici, i propri locali, le proprie attrezzature i suggerimenti dei collaboratori e degli insegnanti che seguiranno questo lavoro secondo me è proprio la dimostrazione che l'attenzione per i giovani è molto elevata.